Il mio blog, un'insalata amata dagli stilisti. Pensate, una ragazza di, in questa intervista, l'intervista a Chiara Ferragni, una ragazza che è nata nel 1987. Quanti come me, dalla mia generazione, è nata negli anni 70, io sono nel 73, e tanti, penso di voi, saranno comunque nati in quel periodo, o comunque anche negli anni 80, ecco, trovare una ragazza fortunata come questa che è riuscita ad avere successo, nonostante la giovane età. La vita è in cinque date, 1987. Nasce a Cremona, ha due sorelle, e fin da piccola eredita la passione per la moda dalla madre. 2006. Dopo la maturità classica, si trasferisce a Milano per studiare leggi alla Gucconi. La moda, per il momento, è solo un hobby. 2008. Pubblica autoscatti con look di tendenza sul social network fotografico Flickr. Il suo account comincia ad essere molto seguito. 2009. Crea il blog di moda The Blonde Salad, ovvero www.veblondsalad.com. In pochi mesi i contatti aumentano e anche stilisti e giornalisti cominciano a seguirlo. 2010. Il blog raggiunge 50.000 visite al giorno. Chiara è una delle protagoniste delle sfilate milanesi di febbraio, contesa dagli stilisti e seguita dai media. Ruba la scena a giornalisti e celebrities. Comincia a collaborare con stilisti attestati di moda. A settembre è protagonista a Milano di uno degli eventi della Vogue Fashion Night. Tantissimi ragazzi mi partecipano solo per poterla conoscere. Il mio blog è un'insalata amata dagli stilisti. Chiara Ferragni. Studentessa alla Bocconi. È la più famosa blogger di moda italiana con 50.000 contatti al giorno. Pensate. Gli stilisti fanno a gara per vestirla. Quando nasce il tuo blog? Nell'ottobre del 2009. Da un anno avevo un account su Flickr dove pubblicavo foto con i miei look preferiti. Alcune erano autoscatti, altre erano fatte dal mio ragazzo o dai miei amici. Volevo condividere la mia passione per la moda e per la fotografia. Ho avuto subito un grande riscontro. Poi ho sentito l'esigenza di interagire di più con chi mi seguiva, di pubblicare notizie e non solo foto, di creare uno spazio attivo in cui la gente potesse commentare e così è nato il blog salad. Perché questo nome? Letteralmente significa insalata bionda. Insalata perché il mio blog è un mix. Non parla solo di moda ma anche dei miei viaggi e degli eventi a cui sono invitata. Blondo ovviamente per il colore dei miei capelli. Ti aspettavi questo successo? A 23 anni di trovarsi in un successo del genere? Ovviamente no. E lei che cosa risponde? No. Sin dall'inizio sapevo che avrei avuto tanti fan che mi conoscevano già da Flickr, ma non immaginavo che ne sarebbero aggiunti tanti altri. Ora il blog ha più di 50.000 contatti al giorno. Non pensavo nemmeno che la stampa e le aziende di moda italiane fossero pronte ad accogliere il fenomeno della fashion blogger, che all'estero erano già note. Quando ti sei resa conto di essere diventata famosa? Lo scorso febbraio, durante la settimana della moda a Milano, ho ricevuto tantissimi inviti alle sfilate. Ero sempre in prima fila, vicino ai vippi e alla giornalista i più importanti. I media hanno cominciato a seguirmi. Ricordo ancora la prima intervista per un telegiornale. Rivedermi in televisione mi faceva effetto. Poi c'è stata la partecipazione al Cambretti Night. Ero in studio di fianco al Cambretti Night. Cioè pensate, un programma di Italia 1, un programma che ha successo. Ero in studio di fianco alla protagonista della serie TV O.C. Misha Barton per commentare i suoi look. La tua famiglia cosa pensa di questo successo che hai raggiunto? Mia mamma ha reagito bene, conosce il mondo della moda perché ci lavora, ho ereditato da lei questa passione. Papà invece era più dubbioso, era preoccupato per la mia privacy. Ma poi ha visto che non scrivo mai post personali ed ha capito che è un'opportunità importante per me. Dato il periodo di crisi, sì. Un blog di moda è quasi una laurea in giurisprudenza. Ma cosa vuoi fare veramente da grande? Finito liceo ero confusa. Il mondo del diritto mi attirava e la passione per la moda non era ancora sbocciata. Per questo mi sono iscritto a giurisprudenza. Ora mi mancano nove esami alla laurea. Ma non sono più sicuro di voler fare l'avvocato. Mi piace di più la creatività della moda. Pensavo a Master in Marketing. Una volta laureata, così potrei continuare a lavorare in questo settore. L'obiettivo è conciliare la mia professione futura con il blog. Ormai è molto seguito. Se lo chiedessi, perderei credibilità. Che rapporti hai con le altre blogger italiane? Buoni, ma come in tutti gli ambienti ci sono invidia e competizione. Mi ridicano in tante, hanno da ridire perché sono la più seguita degli stilisti. Ce ne sarà comunque una che all'inizio ti ha ispirato. E lei, certo. Più di una, ma non italiana. La mia blogger di riferimento è Fashion Toast. Una ragazza mezza californiana e mezza giapponese con uno stile molto particolare. Mi piace anche The Cherry Blossom Girl, una blogger francese che fa foto bellissime, veri servizi di moda, ma il suo stile mi piace meno. Sei ancora una studentessa? Come compri tutti questi vestiti griffati? Prima compravo molti abiti di seconda mano e approfittavo delle ricorrenze per farmi regalare borse e scarpe firmate. Da quando il blog è popolare, gli stilisti mi fanno sconti e regali. Posso scegliere i capi dalle collezioni per indossarli nei miei scatti. Poi ora collaboro anche con delle riviste di moda. Ormai questo è un lavoro. Chi mi critica, soprattutto le altre blogger, ecco, mi fa sempre conti in tasca. Ma è tutta la luce del sole e i fan lo hanno capito. Quanto contano i tuoi fan? Tantissimo. È a loro, a loro, che devo rendere conto. Rispondo sempre alle domande e accetto i consigli. Ho rinunciato anche a dei contratti con marchi di moda per rispetto nei confronti di chi mi segue da sempre. Che cos'è per te lo stile? Stare bene con quello che si indossa. Eccomi qua. Senza assomigliare a un modello ideale. Sono felice di dare consigli di moda, ma i miei sono solo spunti. Ognuno deve vestirsi secondo il suo gusto. Chi è la tua icona di stile? Adoro Katie Moss, Sienna Miller e le gemelle Olsen. Slita preferito? Alexander McQueen, Alexander Wong e tra gli italiani Dolce Gabbana. Sta per cominciare la settimana della moda di Milano. Cosa non potrà mancare nei nostri armadi questo inverno? Il colore rosso. Accessori leopardati e giacche d'avviature. E soprattutto le giacche di pelle. Per chi prosegue questo viaggio, questo viaggio del tempo. Grazie. 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 Grazie.